I punti di forza di un'impresa di successo, innanzitutto le persone, credo che un'azienda di successo si fondi sulla qualità delle persone e sulla loro capacità di lavorare insieme, quindi sulla squadra innanzitutto. Nel nostro settore, nel settore della tecnologia, dell'innovazione, l'impresa di successo è anche e soprattutto un'impresa che è in grado di affrontare i cambiamenti, di adattarsi ai mutamenti dell'ambiente esterno, del mercato, viviamo in un mondo in cui la turbolenza e i cambiamenti sono all'ordine del giorno, quindi la flessibilità è anche un aspetto importantissimo. Incomincia sicuramente con parecchi incontri durante la mattina, poi abbiamo una fase pomeridiana in cui ci sono le cosiddette conference call, quindi le telefonate con tutti i colleghi dell'estero. Blackberry è un'azienda multinazionale, abbiamo sede in Canada, quindi il fuso orario sicuramente ci aiuta e allo stesso tempo non ci aiuta molto a gestire bene i nostri tempi, ma dobbiamo essere comunque sempre in contatto con il nostro quartier generale vicino Toronto e si chiude la sera con incontri con i clienti e poi sicuramente con dello sport, con dell'attività fisica che è importantissima. Questo è un consiglio che do a tutti i ragazzi. Non ci sono credo degli studi particolari, ci vuole innanzitutto tanta passione per quello che si fa, questo è il primo consiglio che do a tutti. Sicuramente per quanto mi riguarda gli studi ingegneristici, anche l'attenzione agli aspetti dell'economia, le tematiche più importanti dell'economia sono importanti perché il mondo di oggi è un mondo molto complesso, quindi concentrarsi solo su un aspetto può essere limitante. Studiare all'estero è importantissimo e anche la lingua, la lingua inglese oggi non è sufficiente parlare bene inglese, oggi bisogna parlarlo benissimo e quindi anche questo è un suggerimento che do a tutti i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro. Passate un periodo di studio, anche di esperienza, qualunque tipo di esperienza, non è importante, anche non di lavoro all'estero, vi aiuterà sicuramente a perfezionare la lingua perché oggi questo è un aspetto importantissimo. Sicuramente il primo è quello di pensare che sbagliare sia un problema, l'errore deve essere un valore, bisogna imparare dai propri errori, bisogna imparare dai propri fallimenti, è sempre un'opportunità per migliorare, tipicamente soprattutto per la nostra cultura italiana l'errore, il fallimento è considerato come un valore negativo, come un disvalore, non lo è assolutamente, questo è una cosa sicuramente che bisogna cambiare, credo che le nuove generazioni lo stiano già facendo. Come tutto nella vita la passione per ciò che si fa, innanzitutto. Non importa se si sta cercando di diventare un amministratore delegato, un bravo manager o banalmente un ricercatore, ciò che importa è essere appassionati in quello che si fa, la curiosità, questo è un altro aspetto importantissimo, non dare mai nulla per scontato e soprattutto non pensare che la carriera sia l'unico modo per raggiungere i propri obiettivi, si può essere un ottimo professionista anche lavorando in un laboratorio di ricerca.